Io me lo ricordo, andavo a dormire mezzo morto, c'era la tempesta sopra il porto Mi dicevo Davide puoi farcela ma figurati tanto se qualcosa non va storto Il titolo è, come dici tu, una metafora che rappresenta i due anni e passa che abbiamo passato un po' al buio Quindi il periodo dell'eclissi è stato quello, almeno per me, a livello empatico ma anche più concreto Visto che appunto noi eravamo impossibilitati a fare la maggior parte delle cose Quindi sicuramente è un album che, come ho già detto in altre interviste, secondo me è un po' triste, un po' deep Hanno detto deep, romantico, triste, chilling, introspettivo, ci sono tanti modi Però non è un disco prettamente rap come magari potevano essere quelli prima C'è qualcosa di più particolare Sopra le ferite il sale Brucia però lasciami correre Dritto fino a non so dove Mentre nei miei sogni piove Ti avvali di molti featureings Partiamo da quello del primo singolo di Neffa Come nasce quest'idea? Immagino soprattutto anche per il mood un po' melodico del brano Io sì, quel pezzo ce l'avevo già da un paio d'anni Forse qualcosa in più Non ci aveva mai avuto un ritornello Non eravamo mai riusciti Io non ero mai riuscito A scriverci una roba che mi piacesse Quindi ho pensato che doveva farlo qualcun altro Finché poi un giorno l'ho mandato a lui Non ce l'avevamo conosciuti mai Lui ce l'avevamo scambiati due parole sui social Ma è stato subito mega reattivo Ha capito subito dove voleva andare a parare Poi insomma c'è stato un breve scambio di opinioni E lui poi ha fatto quello che doveva fare Non so come dire Io sono contentissimo perché a quel pezzo ce tenevo particolarmente Senza il ritornello suo probabilmente non so se sarebbe poi uscito Quindi poi diventare la title track del disco Avrebbe probabilmente causato dei cambiamenti poi al disco Bene a proposito di featuring C'è anche un featuring molto interessante con ASAP Ferg Dagli Stati Uniti come è nata questa sinergia Cosa ti aspettavi e il risultato finale come lo reputi? Allora mi aspettavo una strofa della Madonna Lui poi ci ha mandato una strofa della Madonna Io non, come detto già anche in altri casi I featuring poi vengono dettati un po' dalla canzone Cioè prima che ho la canzone non ho il featuring Perché quando sento un pezzo che dico Ah questo secondo me è perfetto per Poi glielo mando Trovo un modo per mandarglielo Anche se appunto magari è un artista americano Uno pensa no è difficile così Come tutti quanti gli altri musicisti Anche questi hanno le etichette Le cose tu puoi mandare comunque una roba Dopo un paio di settimane o una decina di giorni Ce l'hanno rimandata subito Quindi ho capito che aveva capito Ecco diciamo così E diciamo che con il suo double tempo Con i giochi multisillabici si è incastrata bene Si si spacca lui Questo è un album che vede vari produttori Che firmano le tracce, i brani, le composizioni Il tutto è comunque a un filo conduttore giusto A livello di sound Come hai trovato questo filo rouge? Noi è già qualche anno che lavoriamo in session Quindi tutto il disco è nato così Le produzioni del disco sono nate In delle session che abbiamo fatto Sparsi per l'Italia Abbiamo scelto delle location Che ci piacessero Per poter stare tranquilli E siamo andati lì In una decina di persone Per lo più sempre gli stessi Che poi sono i producer che sono sul disco E così facendo Con un paio di postazioni Abbiamo Sei lì da quando ti svegli A quando vai a dormire Fai la musica Esatto E stando tutti insieme Sì È normale Che poi sono produttori Con cui lavoro Lavoriamo insieme Da tanti anni ormai Quindi Sì C'è già del feeling tra di noi In più Se appunto ci metti poi insieme Nella stessa stanza È piuttosto facile Ci capiamo subito Quindi Infatti difficilmente Poi ho tanti producer diversi sul disco C'è sempre gli stessi Però Come dire Squadra che vince Non si cambia Tu sei anche Nel tuo multitasking Sei anche produttore Giusto Quali benefici Puoi trarre Dal fatto di essere Sia produttore Che MC Io ho sempre Sono sempre stato Un produttore Che non si è mai messo all'opera Un po' pigro E Ho sempre Sono sempre stato in studio Con i producer Ho assimilato sempre tanto E sono sempre stato Un bel rompicoglioni In senso Cioè Sono uno che Non guarda Più che esigente Che Ho capito Piuttosto presto Quello che mi piaceva E quindi Poi Essendo uno Molto quadrato Su certe cose Non Dire facciamo così Facciamo colà Ovviamente Se non c'erano loro Col cazzo Non è che io Stavo a fare Direttore d'orchestra Però C'ho sempre avuto Il piacere Di dire Usiamo questo rullante Piuttosto che quello Favamo capito Cioè Il suono deve essere In un certo modo Sì Perché la faccia Nella fine È quello Quello che faccio No Quindi ci sto Cerco di stare Dentro la 360 Quindi riesci a valorizzare Proprio quello che hai in testa Anche a livello Proprio di metrica Di Di quello che Vuoi La tua delivery Sul pezzo Che viene valorizzata Sì sì Sicuramente L'idea iniziale Di come è nata E la realtà Di tanta roba Oggi Quanta strada Ha fatto Come sono cambiate Le cose Beh Io sono arrivato Quasi all'inizio Non proprio all'inizio Ma quasi subito Quanta strada Ha fatto Parecchia Vendiamo più dischi Quelli che vanno in televisione Vanno a Sanremo E Facciamo più genti I concerti Siamo ancora indipendenti Non abbiamo ancora Ricercato Diciamo Nemmeno da parte di noi artisti L'interesse di andare Poi a finire Nella major Come quasi tutti Questo evidentemente Perché ci troviamo bene In più Ti posso dire che Primo tour Che abbiamo fatto Nel 2012 Quello con Madman Eravamo io Eravamo io Madman Il ragazzo Che hai visto prima Eravamo tre Eravamo in tour Siamo una trentina Qualcosa Qualcosa è cambiato Sì sì È cambiato in meglio Scherzi a parte Comunque Mi sembra Sì Ha un'etichetta Che ha sempre proposto Musica senza Compromessi Se così si può dire E ha sempre Tra l'altro Sono passati Per l'etichetta Poi Parecchi No Nomi Che Anche all'inizio Gali Quando proprio Non no Anche lì Alla fine Daniele Arsh L'aveva Ci aveva Intuito Quindi Diciamo che Ormai È diventata Una Quasi Sì Anche a parte Un punto di riferimento Perché da quello che so Daniele va all'università A spiegare Quello che fa Vero A spiegare Che cosa è tanta roba Nell'università Quindi Forse è anche un punto Di riferimento Io dico Anche per noi Ormai stiamo Tranquilli Capito Da artisti Sai che comunque Stai parato Non Non c'è la cosa Che dici Mannaggia Questa cosa Se stavo Che ne so Nome di una major Andiamo Ci abbiamo No La dimensione Del live Cosa significa Per te Iniziare questo tour L'esperienza live Qual è il valore Aggiunto Che riesce a darti Come artista Che tipo di Segnale Ti aspetti Da questo tour Ovviamente A parte Il segnale Di vedere La gente Sotto al palco È quello Diciamo Primario Ci ho sempre Avuto un buon Un buon rapporto Con il pubblico Con il mio pubblico Almeno Ho fatto solo Un concerto Per adesso A Roma Tu direi Certo È pure Casa tua Quindi Però insomma La risposta è stata Piuttosto Calda Ecco Quindi Non mi aspetto Di meno Stasera Perché siamo A Padova La dimensione La dimensione live Devo dire la verità Essendo Io ormai Tra virgolette Un vecchio Non so come dire Sì Sì Facciamo così Nel senso Live Trovi Trovi Delle canzoni Cantate dal vivo Pochi Intrallazzi Ci sono balli Ballerini Poi per carità È che non puntiamo Su quel tipo di show Ecco Non Sono io Con Flavio Facciamo il rap Fatto bene Il punto Il punto del live È che poi la gente Se ne va E dice Questo qua Questo qua Era un bel concerto Mi sono divertito No? Lai Quista Se la voglia